Buongiorno, buon inizio di settimana e tanti auguri a chi festeggia Santa Lucia. Cominciamo con le notizie ANSA, le top 10. Berlusconi, la crisi è una follia politica, no a un governo tecnico, meglio le elezioni. Dalla borsa, Tokyo, in rialzo l'indice Nikkei con un guadagno dello 0,8%. Anche Milano apre in rialzo l'indice FTS e MIB più 0,43%, positive anche le altre borse europee. Olanda, abusi su 30-50 bimbi, arrestato 27 anni, era supplente negli asili di Amsterdam come babysitter. Torino, McDonald's, malori tra gli avventori. In sette sono finiti al pronto soccorso, ancora sconosciute le cause dei malesseri. Mercantile in avaria, ore decisive. Kosovo, exit poll, partito del premier, avanti. Il partito democratico è al 31%, mentre la Lega democratica al 25%. Due alpinisti feriti nel Lecchese, uno scivolato sul ghiaccio e in gravi condizioni. Germania, esplosione in un edificio, tre morti. Ancora ignote le cause dell'incidente che ha distrutto una famiglia. Afghanistan, autobomba contro una base degli Stati Uniti. Rivendicato dai talebani l'attentato che ha ucciso sei soldati della NATO. Due approfondimenti. Da Amsterdam. La polizia olandese ha arrestato un uomo di 27 anni, sospettato di aver abusato sessualmente di una cinquantina di bambini negli asili nido di Amsterdam e di aver distribuito materiale pedopornografico. L'uomo lavorava come supplente negli asili e si faceva pubblicità sul web come babysitter. È sospettato di aver abusato di 30-50 bimbi fino ai 4 anni di età. Arrestato anche il compagno dell'accusato, un uomo di 37 anni, anch'egli trovato in possesso di materiale pedopornografico. Veniamo a casa nostra con le dichiarazioni del Premier. Sono sereno, ottimista e fiducioso, come sempre. Questo afferma Silvio Berlusconi, giunto in Senato per il Consiglio dei Ministri e per prendere la parola in aula dove chiederà la fiducia al governo. Oggi è il giorno in cui si deve confermare che il Parlamento rispetterà la volontà degli italiani, ha proseguito il Premier, arrivando a Palazzo Madama e rispondendo a chi gli ha chiesto se oggi per lui sia una giornata lunga. È iniziata alle 9 la seduta del Senato sulla fiducia al governo. L'aula si presenta al gran completo. Sui banchi del governo sono presenti tutti i ministri. Il leader della Lega, Umberto Bossi, ed il ministro della Giustizia, Alfano, siedono accanto al presidente del Consiglio. Gran parte dei cittadini non vuole che le decisioni possano essere prese con logiche a loro estranea. Se il governo ha mal operato, deve essere il popolo a decidere. Lo ha affermato il Premier Silvio Berlusconi nel suo intervento al Senato. Con questo vi saluto, vi do appuntamento al notiziario di metà giornata. Di nuovo buona giornata e buone feste a tutti.